E ciao ragazzi io sono Alice e benvenuti in questo nuovo video Iscrivetevi al mio canale e chi non l'ha già fatto Lasciate un bel pollice visto se vi piace Oggi andiamo alla ricerca del gufo reale Perché siamo ad ecco appunto per questo Se volete altri video del genere lasciate un bel like a questo video Per arrivare al castello andremo in moto Ragazzi aspettate Come si mette? Adesso stiamo veramente a pochissimo Tra poco lo giro andrà a 50 all'ora Alla faccia del bollito Alla faccia del bollito Del pilota che non ha più nulla da dire Fuga solitaria Bene ragazzi siamo arrivati a Bezio Al castello di Bezio anzi E adesso andremo a riprendere i rapaci E saremo pure alla ricerca del gufo reale Quindi incamminiamoci Chissà se troviamo quella Il gufo reale Così detto Chissà se vediamo sto gufo reale Se lo troviamo Ecco San Rocco Il santo dei viandanti Via andante Questa è via andante Questa? Questa si chiama via andante Via andante Via andante Via andante Via andante Castello Molto ripido Dov'è Zio che dobbiamo andare? Vediamo qua raga E' il castello di Bezio Di là Guardate ragazzi Ceramica di Bezio Forse siamo Boh non so dov'è Ingresso Un ritrovato alcuni giorni dopo in provincia di Agrigento Da San Michele Arcangelo Il messaggero divino Gli ricordò che ormai era di nove mesi E gli consigliò un immediato ricovero In sala parto Sto morendo Ok siamo arrivati quasi E raga abbiamo impiegato 1-2 ore per arrivare Sarebbe il nostro privé Se fatti capire Ok grazie Mi sa che è credito Non puoi pagare più le tue E ragazzi Questi sono La guida E' sentire la guida Cosa stiamo andando a cercare? E' una gabbia per un rapace Però un rapace non ce n'è Oh ma è un gufo Ma come l'abbiamo già trovato il gufo reale? E' quello qua il gufo reale Ma non si vede niente Ma si che si vede Non andargli tanto Si vede perché così non lo vedi Ma dopo lo vedi a casa Ah si chiamà tu Il gufo reale è la specie di rapace notturno più grande del mondo Con un'apertura all'aria di 2 metri E' un'altezza che varia negli adulti Dai 65 agli 80 cm Le adulti possono arrivare a pesare anche 4 kg Per fare un paragone Un barbagiani Pesa circa 300 grammi Possiede orecchie molto vistose Grandi occhi giallo-oro Racchiuse in un disco facciale incompleto Il piumaggio è fulvo Il più scuro è sud di una nana gara Abbiamo finito della lezione di storia Grazie No ho sbagliato La lezione di scienze Questo qua è un ramo di lecco Questo qui è Bellaggio La punta Quella lì è l'isola Comacina in fondo E il lago di Come E qui si va su Fino alla Valperlina Ma adesso dove andiamo? Vediamo se ci sono altri rapaci Vedete che tutti hanno il loro trespolo Con la loro acquetta Ma non ci sono Guardate che splendida vista del lago Lì c'è un fantasma di Vezio E' pericoloso stare qua Eccolo qui E' seduto proprio sulla cosa Non toccarlo Potrebbe ucciderti Ma è finto Ma ci potete entrare le camere E' un fantasma questo Cosa potrei dire? Si può andare lì sopra? Si Qui perché c'è un buco? E' qui ci lanciavano le frecce Si Si Raga qui c'è un altro fantasma E' chiuso Però è bello E' un'altra cosa Vedete che c'è c'è? No entri Sta a fondo Perché? Perché si vede che non si può entrare Stai attenta qua Non cadere Ah capito perché Qui dentro ci sono un botto di fantasma Si Proprio lì dentro Perché? E' perché li tengono dentro chiusi Dopo la notte li aprono Per andare in giro Ma che dici Zio Non ci credo Vai sali tu Ti lascio la telecamera Le prendi bene però Ma che ci sono le armature Tutto di due Raga Ci sono tutte le armature No ma pazzesco Sono vere? Eh si Quale di un te Non toccarle però Ah perché? Vedi ci sono anche gli scudi Questa addirittura è un'ascia Di guida guerra E' vera? Si E' E' questo è un elmetto Anche questo è un casco Fai vedere bene Una spada Una spada No Si No Si un'altra spada Io qualcosa vedo Cos'è questo? Io qualcosa faccio vedere Cos'è questo? Non lo so Qualcosa per non ripararsi le spalle Forse Si E questo è per le mani? E questa è la cintura? Si E quello? Non lo so Raga io saprò le vertigine Piano scendi piano Lì ho visto che c'è un'altra gabbia Non è che c'è dentro qualche altro rapace? Si c'è un altro Ma non è che di buona caccia il tesoro di rapace? Mi sa di si Mi sa che sono in giro sparsi per tutti i posti Qui c'è rapace? Oh non c'è il nome Eccolo qua Un'aquila Cos'è che è? Oh che bello No aspetta No lascialo così Che bello Voglio vedere subito il nome Non c'è scritto il nome Ah beh Breva Breva No zio basta dai Perché c'è il fantasma Sto accendendo Cavolo mi hai fatto venire qua a fare Me lo puoi dire Ah però qua è veramente un po' più fresco Eh te l'avevo detto se l'ombra E saliamo ragazzi Saliamo vediamo Questo video ragazzi dovrà raggiungere un bel po' di like Eh sì Cinque mila Cento like almeno Cento like Eh Tiene sta Gigi Non si sa Non si sa Non si sa Raga Oddio Questo cos'è? Eh eh Ah e mi sa che era per il ponte Posso toccare la corta? Non toccare che questa qua vedi dove è agganciata È agganciata sul ponticello dove siamo passati prima Con questo qua lo tiravano su Eh non tocchiamo Eh qui c'è scritto L'aviosauro 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 Guardate l'aviosauro Il mostro del lago Il mostro del lago È una leggenda E come l'hanno fatto? Io ho detto le linee di dimensione fino a un metro Cerca di lunghezza per tenere ai su No c'era veramente È una leggenda però c'è anche veramente Ragazzi è bellissimo Ci sono i fossi Sapere tutto quanto Una grossa cucetta Vogliamo salire su ragazzi Ma mica tanto No non è tenuta al ponte quella corda Sì No vedi che è tenuta quella geggioli Eh quella geggioli ma tiene Quel cosa lì se lo tiri su Alza È vero No facciamolo facciamolo Va bene? Io di qua non è che mi fido tanto Perché sento un po' troppo scricchiolare Lo zio Ma di là c'è un'altra cosa Eh è un'altra Corruzione Dopo andiamo a vederla Qualche non fidarti zio Però questa cosa Questa cosa l'avrò la prima provata Che farla vedere Eh ma a me non mi interessa ragazzi A me si Il lago di Co Ma perché dobbiamo andare su per forza di qua? Obbligatorio Raga vedo la fine E non penso di fidarmi molto Nanch'io adesso Ok Zio C'è una pietra Non posso toccare Vedete? Tutti gli aggeggi di una volta Per fare il cibo zio Questo qui Sì Qua ci mettevano le Questo è per il tè? Non lo so Forse sì E questo? Non lo so Penso che sia un portapari Questo sarà da stiro Quella non so cosa sia Questo non so cosa sia Questo c'è Un mestolino Con cui hanno fatto loro Per No raga E questa qui è una cesta Ma non credo che sia Della loro Epoca questa Un taglialino Questa credo che sia più recente Orco cani Occhio che qua è molto pericoloso Però è bellissimo Dalla torre Guarda che vista che c'è Si vede tutto il lago Non ci sono Non ci sono Da Photoshop No Non ci sono No Non ci sono Non ci sono hai paura tata? e ragazzi sono un po' di martigini sono venute a questo solo per voi ragazzi lasciate un like se anche voi sono fatti di martigini senti eh i like sono importanti vedi quelli sono i ferri che tiravano su e facevano girare e si chiudeva la botola e nessuno poteva entrare nella toga sono belli? si però non so che cosa sia oh questo è piccolino questo è il guarda guarda la vedi? ma per piano si possono vedere questi animali non so cosa sia però è un bellissimo rapace allora il video sta andando avanti stiamo andando verso l'uscita ormai abbiamo visto tutti bene ragazzi lasciate un bel like se vi è piaciuto non ci vediamo ma noi abbiamo visto un'avventura e l'obiettivo di trovare questo rapace qui il gufo reale l'obiettivo l'abbiamo centrato quindi possiamo anche chiudere il video qua e spero che vi sia piaciuto perché per noi è stata un'avventura bellissima e quindi ci vediamo domani ciao ciao